Siamo con Giovanni Longo, come stanno andando le vaccinazioni? Tutto bene, abbiamo quasi finito, abbiamo iniziato all'una, ne facciamo una sessione da 10. Adesso c'è ancora un signore, questa signora seduta e niente, tutto bene. Siamo a punto di svolta? Eh, speriamo. Com'è la situazione? Eh, cosa dirti, con le nostre vaccinazioni speriamo di accelerare l'immunizzazione di tutti quanti. La gente la vede preoccupata? No, no, no. Tranquilla e fiduciosa? Sono tranquilli, vengono tutti tranquilli, sì, sì. La fine si vede allora? Eh, speriamo che ci sia questa fine, prima o poi, dai. Con queste vaccinazioni in più dovremmo accelerare la fine. Grazie, buon lavoro, dottore. Ciao, grazie a voi. Grazie.